E' di almeno 26 la conta dei morti nell'esplosione che venerdì ha devastato l'hotel Saratoga a Lavana. Tra i morti, secondo la stampa locale, ci sono due minori e una gestante. I parenti dei dispersi hanno passato la notte accanto ai soccorritori a Lavana Vieja. Mia figlia lavora a Saratoga, è lì da ieri alle 8 del mattino e ancora non so niente di lei. Stanno solo dicendo bugie in tv. Su uno o qualsiasi dei piani dell'hotel potrebbe esserci stata una fuga di gas perché su quei piani ci sono cucine e cucine di servizio. Sicuramente nessuno ha controllato niente di tutto ciò. Hanno collegato il gas e lì si vede il danno. Il Saratoga era uno dei più lussuosi alberghi dell'Havana, un edificio del XIX secolo. Nell'hotel al momento dell'incidente non c'erano ospiti e era nei giorni finali di una ristrutturazione. La riapertura era prevista per martedì.